Ben trovati, vertice di maggioranza, nuovi partiti o la partitocrazia, non sono termini tutti che ricordano un po' la prima repubblica, bene, proprio coloro che l'hanno combattuta sino al 94 e poi sono diventati protagonisti e oggi diventano protagonisti di una terminologia e di un'azione politica tipica della prima repubblica. Cosa voglio dire? Gianfranco Fini e la ex alleanza nazionale o ancora l'ex movimento sociale italiano diceva la partitocrazia, secondo me è sempre bene che quanti più potessero esprimere la propria idea anche all'interno di organizzazioni questo significa democrazia, ma loro dicevano cose differenti, per cui nasce in queste ore ufficialmente il nuovo partito di Gianfranco Fini che determinerà più costi per tutti noi, perché oltre ai contributi pubblici a margine delle elezioni ci sono i nuovi gruppi parlamentari, quindi Camera e Senato con nuovi costi, perché è un nuovo gruppo che si aggiunge in Parlamento, questi erano già stati eletti all'interno del Popolo delle Libertà, segreterie, capi gruppo sia alla Camera che al Senato con indennità differenti rispetto ai semplici ruoli di parlamentari, ossia di onorevoli e di senatori. In tutto questo cosa c'è? C'è un'università in cui migliaia di ricercatori giovani e ormai anche tanti meno giovani non hanno una certezza se la loro carriera potrà andare avanti o rimarranno sempre tali, perché molte volte ricercatori poi diventano docenti, ma negli ultimi decenni abbiamo visto che i docenti diventano poi i figli dei notabili o i figli dei docenti e quindi dei baroni delle università. Nelle scuole c'è il precariato per tanti insegnanti e tanti insegnanti, nelle fabbriche i lavoratori non sono tutelati e anche nella sanità si paga un prezzo che è la mala sanità. Badate bene, la mala sanità non è soltanto quella per cui a margine di un'operazione qualcuno perde la vita, la mala sanità è anche quando i costi sono eccessivi e per colpa di quei costi non si fa una ricerca oculata su come spendere le risorse per cui poi bisogna tagliare i posti letto, bisogna reintrodurre i ticket. A proposito, vi ricordate qualche settimana fa vi ho annunciato che ci sarebbe stato nuovamente il ticket? Bene, da giovedì molti invalidi, anche al 100% che sino a giovedì non pagheranno il ticket per prestazioni sanitarie o analisi del sangue o vari tipi di altre analisi, da giovedì dovranno nuovamente pagarlo. Ecco, questa è la mala sanità o anche questa è la mala sanità. E perché, visto che è stato anche ufficialmente detto all'interno di una nostra trasmissione, non possiamo conoscere l'analisi dei costi delle varie ASL pugliesi? Cos'è l'analisi dei costi? Non è il bilancio, il bilancio è una cozzaglia di numeri che noi magari non riusciremo a comprendere o la concorrenza non riuscirebbe a comprendere. L'analisi dei costi è un documento attraverso il quale noi sappiamo realmente quanto una singola ASL può pagare una siringa, per esempio. Allora, se io sono un fornitore di siringhe ospedaliere e posso proporre la stessa siringa, con la stessa qualità, a un prezzo minore, non potrò mai essere concorrente nella regione Puglia. Parlo della regione Puglia perché noi viviamo qui, è logico, poi vi sarà una uguale situazione anche in altri parti d'Italia. Perché è tutto, come dire, non certo in quanto non conosciuto pubblicamente, questo voglio dire. Allora, l'analisi dei costi è un documento che ci fa percepire quali possono essere gli sprechi, le eventuali degenerazioni. È previsto dalla legge, però per esempio nel contratto con i direttori non è un passo importante che può prevedere la non presentazione dell'analisi dei costi obbligatoria, la decadenza di questo. Per cui è anche la burocrazia sanitaria che agevola il fatto che tale documento così importante non venga reso pubblico a tutti quanti noi, a tutti quanti noi cittadini, ma anche agli operatori della sanità. Perché forse è bene non far sapere quanto costa una protesi, quanto costa una siringa, quanto costa un laccio, quanto costa un qualsiasi strumento, oggetto o qualsiasi altra cosa che riguarda la sanità pubblica. Io non credo nella mala fede dei direttori sanitari e generali delle ASER di Lecce, Brindisi e Taranto, però rinnovo nuovamente l'invito a farci conoscere questo documento per far fare a tutti quanti noi una valutazione. Perché in questo modo potremo anche aiutare a evitare sprechi o qualcuno che si vorrà proporre con prezzi competitivi produrrà un risparmio che potrà essere investito nella buona sanità. A domani.